Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Canta la Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte. Oggi siamo in compagnia di Anna Guida, che ci aiuterà nella canzone, siamo ancora alle prese con Sanremo 2023, la canzone di Anna Oxa, che si chiama Sali, dopo la sigla. Canta, 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 cantare Libertà. Bene ragazzi, intanto vi dico che la tonalità di questa canzone noi la eseguiremo in La minore, mentre nell'originale è in Si bemolle minore, però essendo un po' scomoda la faremo in La minore. Questa canzone all'inizio ha due accordi che sono il La minore, quindi se questo è il Do andando indietro, La, Do, Mi. Poi andiamo ancora indietro e troviamo il Fa maggiore, Fa, La, Do. E la canzone inizia con questi due accordi, ascoltiamo. Bocche piene di falsità che nutre il mondo Rimanevo sulla Mani prive di dignità, votate a Dio Sali uomo, sali e dimentica Sali e ritorna alla tua nascita Ancora là Occhi dell'ambiguità dei nostri tempi Vite frammentate senza verità Sali donna, sali e resuscita Sali e ritorna alla tua nascita Bene, adesso come state vedendo c'è un nuovo accordo che è il Mi maggiore Quindi Mi, Sol diesis, Si E andando avanti ci saranno ancora altri accordi nuovi Troveremo il Sol maggiore Sol, Si, Re Poi il Fa diesis minore Fa diesis, La, Do diesis Poi in più avremo il Do maggiore Che tutti conosciamo bene Do, Mi, Sol E il Si minore Quindi Si, Re, Fa diesis E andiamo al ritornello La canzone procede così Libera L'anima Come rondine La sera Vola libera E ti da L'anima Come stelle Per l'aurora Di un mattino Che non c'è E che non ha nome Poi fai due giri così E riprendi Arca dell'umanità Andata a fondo Cuori puri Mangiati Dall'avidità Che rimane sul Fa Sali E poi Un'altra vita Tu Vivrai 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 Re, Fa Poi Sol minore Quindi Sol, Si bemole, Re Poi avremo il Re minore Andiamo ancora indietro Re, Fa, La Ed infine il La bemole Quindi se questo è il La La bemole, Do, Mi bemole E vi facciamo ascoltare questa parte Vi ricordo che andare su o più giù o più su è uguale L'importante è prendere gli accordi giusti Ma facciamo più in basso e vediamo come va Sali Sali Rosa Sali Come stelle dell'aurora Di un mattino che non c'è E che non ha nome Che non ha nome E la canzone finisce con il La minore Bene come abbiamo visto anche questa è una canzone semplice Abbastanza semplice da suonare nel pianoforte Io ringrazio Anna Grazie a te Per averci aiutato con questa canzone E vi ricordo di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto E di attivare la campanella Così ogni qualvolta esce un video nuovo Potete guardare il video subito Inoltre se volete accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra C'è un video e vi lascerò il link in descrizione Che spiega come poterlo fare Ok? Ciao ragazzi Ciao A la prossima